Guarda, la suola è praticamente nuova, mille chilometri non porterai mai nessuna scarpa. Il mercato delle scarpe, anche quelle da corsa ma non solo, sta diventando sempre più competitivo al punto tale che oggi diventa comunque molto più difficile innovare rispetto a 5 anni fa. E poi, ma che cosa vuol dire veramente innovare? Prendiamo per esempio Brooks, un'azienda davvero fantastica. Abbiamo raccontato, e vi metto il link qua sopra, le principali caratteristiche dell'azienda, del marchio e come questa azienda sta evolvendo nel tempo. Brooks fa davvero scarpe innovative, sì, ma alla fine queste scarpe non sono davvero cambiate nel corso degli ultimi anni. Qualche settimana fa abbiamo preparato la prima impressione delle Ghost 13 ed è stato davvero un successo che non ci aspettavamo, quindi è doveroso secondo noi effettuare la recensione completa. Purtroppo la corsa in pista, di solito dedichiamo un'ora per le riprese, la faremo solamente a fine vite utile della scarpa, anche perché in questo periodo di zone rosse e arancioni diventa comunque molto difficile realizzare quello che in un momento normale invece sarebbe stato molto semplice. Come dicevo, la collezione Brooks è davvero super innovativa da un lato, in effetti sicuramente lo saprete, ma è proprio Brooks che ha inventato nel 2014 il guide rail, che poi è stato copiato da tutte le aziende, le principali aziende mondiali, tra cui Nike, ma anche Adidas. Con quale scarpa l'ha fatto? Ve lo chiedo qua sotto. Ad ogni modo io e Andrea siamo veramente indecisi su quale ulteriore recensione del marchio di Seattle dovremmo fare, anche perché se avete qualche suggerimento fatecelo qua sotto, qualche coffee senza nessun impegno sarebbe davvero gradito per effettuare ulteriori recensioni. Cerchiamo di dare un servizio davvero innovativo al podistamatore, speriamo che questa cosa sia davvero gradita. Ma l'osservatore che guarda i 30.000 piedi, quello che vede la comunità Brooks, capisce che nel 90% dei casi indossa o le Grisserin, o le Adrenalin, o le Ghost, o magari, se addirittura è innovativo, le Ravenna. Sappiate poi che la nuova intersuola DNA Amp, quella per intenderci presente sulle Levitate, ma anche sulle Bedlam, che tra l'altro abbiamo recensito negli anni scorsi sul sito di Run in Pit, sono scarpe davvero interessanti, ma con qualche limitazione derivata dal fatto che questa Amp abbia davvero un peso importante. Ci sono poi le Apiron Tempo, che sono sicuramente delle scarpe che varebbe la pena testare, ma sono dedicate a un numero limitato di persone e di conseguenza non sappiamo se questa cosa possa piacere qui sul canale. Poi ci sono ovviamente le Elite che però, al prezzo di 250 Euro, probabilmente non se ne compra nessuno e comunque non sono per ora ancora mainstream, anche perché esistono delle soluzioni alternative a prezzi inferiori che secondo noi, ma non abbiamo ancora avuto modo di testarle, possano permettere comunque di correre velocemente. Il prossimo video Brooks però sarà sicuramente quelle delle Launch 7, che hanno secondo noi il miglior rapporto qualità-prezzo nel catalogo dell'azienda di Seattle. Prima di vedere dalla pista di Garbagnate l'analisi dettagliata della Scarpa, ricordo qua sopra il video delle caratteristiche tecniche per chi ancora non l'avesse visto, lo mettiamo anche alla fine del video come suggeriti per chi avesse ancora qualche minuto da dedicare a Brooks. Ed ora direi di sentire Andrea dalla pista di Garbagnate, pro depodista, che ci racconterà la recensione completa a chi adatta questa scarpa. Sarebbe tra l'altro delizioso, anche se questa mela è di marca Elisir, che vi iscriviate al canale per permettere ulteriori recensioni. Ed ora pista Andrea Podista. Andrea, dopo aver fatto la prima pre-recensione, le prime impressioni delle Ghost 13, siamo arrivati a oltre 100 km, secondo me ne hai fatti anche molti di più, poi metto in sovraimpressione quanti. Cosa ne pensi di questa scarpa? Allora, intanto la sto tenendo un po' in mano schifata, perché oggi la utilizzerò per fare il riscaldamento e l'ho già un po' pacciugata nel fango qua. Guarda, ti dico, questa scarpa mi ha fatto capire che ci sono scarpe per tanti, ma non per tutti. Perché è una scarpa amata da tantissimi, io mi sono reso conto che invece faccio fatica ad usarla su dei ritmi che non siano quelli del lento, in compagnia, con gli amici. Ho fatto, al dire il vero, neanche tanto ho fatto fatica a correreci forte, perché quando ho provato a spingerla poi andavo. però mi rendo conto che non è una scarpa che mi fa correre di avampiede, non mi fa correre come piace a me. A chi sono adatti in effetti, secondo te, queste scarpe? Guarda, questa qua credo che sia una scarpa per l'amatore di tutti i giorni, una persona che è abituata, che magari non ha una tecnica di corsa perfetta e quindi corre magari anche un po' tallonando o comunque di mesopiede. Fino a che peso le consiglieresti? Guarda, è una scarpa, sicuramente è una scarpa per chi è più leggero, perché per chi è più pesante c'è la Glycerin. Comunque io starei sui 75 kg fino a scendere, fino ai 60 kg. I ritmi, anche lì, forse la prenderei per fare i lavori per chi è un po' più pesantino, quindi magari sugli 80 kg, magari quando devo fare il medio delle ripetute potrebbe andare bene, se no la utilizzerei dai ritmi fino ai 4 e 10 per dire ai 5 per fare i lenti. E invece per quali distanze le suggerisci? Guarda, è una scarpa sicuramente che farei per tutti i giorni, quindi per tutte le corse lenti di tutti i giorni. Forse le utilizzerai su qualche lungo, io su un lungo lento dove comunque devo riposarmi e non devo cercare di spingere. E cosa ne pensi del battistrada? C'è chi si è posto la domanda, possono essere usate con la pioggia oppure no? Cosa dici? Me l'ero posta io questa domanda, forse anche, ti devo dire che sono rimasto sorpreso perché le Bruxan sempre ha avuto quel grosso problema di grip sul bagnato, io le ho provate anche sul bagnato, ahimè, in queste settimane, non ho avuto problemi, ho avuto un pochino più di problemi su pista bianca. E invece a livello di intersuola cosa dici? Intersuola direi classicissima, non è quella che mi fa impazzire o meglio ho trovato intersuole più morbide, più reattive, mi vengono in mente le Clifton o le Rincon, oppure più reattive come le Pegasus, è una scarpa da riposo ma che io non amo principalmente perché è un pochino più duretta e non così tanto confortevole, diciamo. Le utilizzeresti come scarpa all around oppure solamente per corse lente? Io questa non la utilizzerei all around, la utilizzerei solamente per le corse lente, te l'ho detto, più che altro perché non ho un feeling io con una scarpa che non mi fa correre di avampiede. Ovviamente credo che un amatore potrebbe utilizzarla praticamente tutti i giorni per fare anche i lavori, quello assolutamente sì, è proprio una scarpa da provare, ripeto, una scarpa per tanti ma non per tutti, quindi sicuramente non si sposa con la mia tecnica di corsa molto di avampiede, cosa che invece mi era facilitata con delle Pegasus per dire, e lì ritorno alla storia del drop che non è importante oppure con le Magni Fly per dire che mi ero trovato benissimo. E quanto credi che sia la durata? Non so se le porterai fino a 1000 km però quanto credi che sia la durata? Guarda la suola è praticamente nuova, 1000 km non porterai mai nessuna scarpa, però guarda secondo me tranquillamente questo durerà gli 800 km, forse anche qualcosa di più questo mi tarderei a dire. E a livello di numero, stesso numero, mezzo numero in meno, so che la calzata è abbastanza ampia nell'avampiede, cosa ne dici? Allora guarda la calzata, infatti non abbiamo parlato della Tomaia, non so se mi dovrei fare la domanda dopo, non me la farei più, Tomaia è molto morbida, molto imbottita come Tomaia, però il numero è assolutamente il solito numero, per quello infatti dico che è molto comoda, avvolge il piede e lo rende bello comodo. E invece secondo te quali sono i punti di forza e di debolezza di queste COS 13? Punto di forza che comunque grippa bene, ripeto, non sulla pista bianca, ma sul bagnato e sull'asfalto ti fa sentire sicuro, ripeto la Tomaia è molto morbida, molto cuscinosa diciamo, e credo che sia comunque adatta a molti podisti. Lato negativo secondo me che invece per chi corre di avampiede non è molto adatta, non lo so, non la trovo così tanto dinamica come potrebbe essere una 3 che si avvicina, una 2 come potrebbe essere una Pegasus. Invece quali altre scarpe simili assomigliano a queste COS 13? Guarda, la scarpa simile è forse la Cumulus, oppure mi vengono in mente le Solar Boost, le Solar Glide di Adidas, scarpe che sono comode da portare nei lenti ma che io faccio fatica ad usare perché non mi fanno correre di avampiede. E invece ultima domanda, quando testeremo le altre scarpe da gara, le Brooks Hyperion Elite 2, le hai già addocchiate? Non le ho addocchiate, ma adesso forse io ho addocchiato altro, quindi vediamo, toccherà a Max provarle quelle. Vabbè, vediamo, sicuramente siamo qui per fare recensioni, speriamo di farle ulteriormente, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.